Un patrimonio iconografico si può leggere in tanti modi. Uno è quello di trovare dei temi, ad esempio quello del corpo. Come può venire raffigurato, concepito, interpretato? La Maramotti sceglie 12 opere dalla sua collezione, dagli anni Sessanta ai Giorni Nostri, per raccontare punti di vista e soluzioni formali diverse sul tema del corpo. Al fianco di questa, un'altra mostra, che mette a disposizione preziosi libri d'artista, editi tra il 74 e il 2014. Le speculazioni sul corpo di Francesco Clemente, Luigi Ontani, Claudio Parmeggiani ed Enzo Cucchi creano ulteriori percorsi concettuali in un gioco di rimandi coi dipinti. Mediatico è il corpo di Matthew Antezzo, che ridipinge un'immagine di Pierpaolo Pasolini mettendo in moto una riflessione sul ruolo dell'artista e sul potere di suggestione della comunicazione contemporanea. Come un simulacro è il corpo di Luigi Ontani, che nei suoi autoritratti trasforma se stesso in materia artistica. Il suo corpo si contamina e si apre ad ogni possibile porzione dell'immaginario, oltre i linguaggi e le culture. Corpo nudo, inquietante ed attraente è quello della donna archetipo di Margherita Manzelli, una presenza a metà strada tra realtà, memoria e proiezione personale. La posa della donna di Vettor Pisani in Scurrivole cita quella di Mere Toppenheim in una fotografia di Man Ray, in un gioco di rimandi complesso, tipico del suo fare artistico. Tra provocazione, nonsense e critica, il teatro di Pisani scardina mitologie e memorie collettive. Anche il dipinto di Lalla e Saidi mette in crisi gli stereotipi dall'interno, a partire dal titolo, 2002 notti. Quella che dovrebbe essere un odalisca, un topos della pittura europea di ispirazione orientale, è in realtà un ermafrodito. Nicky Oberman rappresenta il corpo infantile in modo grottesco e sinistro. Di queste bambine disorientano la sproporzione dei corpi e gli sguardi insistenti, allusivi. Anche le protagoniste del dipinto di Kim Dingle sono bambine. L'artista statunitense le ritrae spesso in atteggiamenti aggressivi ed eversivi, per denunciare ironicamente i cattivi comportamenti della società americana. Piani scenici e narrativi si contrappongono in The Night Light. Qui MacDermott e MacGoth, duo di eccentrici artisti americani, sottolinea lo scontro perenne tra moralismo collettivo e trasgressione privata. Un'altra coppia di personaggi maschili abita il dipinto Kerelle di Dietmar Lutz. A metà strada tra il fotogramma cinematografico e lo schizzo, le sue pennellate ampie conferiscono alle immagini un senso di forte immediatezza. Due figure anche in Exhibitionist di Ina Swansea. La scena è incentrata sull'azione del guardare, come nel dipinto di Velázquez che l'artista cita, Cristo nella casa di Marta e Maria. Stavolta però il protagonista è del tutto assente. Il corpo che Cesare Tacchi include nei suoi dipinti non è soltanto quello dei soggetti rappresentati al loro interno. Protagonista della pop art di matrice italiana, l'artista inserisce tappezzerie, carte da parati, elementi che fanno parte della vita quotidiana all'esterno dell'opera pittorica nel mondo di chi la sta guardando. Infine Mario Schifano, che dissolve del tutto la materia corporea. La famosa foto del 1912 dei futuristi a Parigi è spogliata del suo significato ritrattistico. Attraverso la cancellazione dei connotati e l'uso dell'aerografo emerge così un senso di movimento e di durata. Come se in quella foto Schifano fosse riuscito a scorgere le idee nascoste sotto i volti.